Da tanti anni è presidente dell'Unione Comercianti di Piacenza e da qualche giorno è arrivato al vertice anche della Camera di Commercio. Alfredo Parietti sarà il protagonista della puntata di questa sera di Nel Mirino, la trasmissione di Tele Libertà in onda ogni venerdì alle 21. Parietti risponderà alle domande del direttore Nicoletta Bracchi, tracciando le linee del suo mandato alla guida dell'ente camerale e analizzando il contesto economico in cui le imprese piacentine si stanno muovendo. Forte attenzione anche al destino organizzativo della nostra Camera di Commercio e dei suoi lavoratori, con i timori legati al progetto di accorpamento con le altre strutture delle province emiliane vicine alla nostra. La prima domanda però riguarda il doppio incarico di Parietti, il quale lascia intuire come presto potrebbe abbandonare la presidenza dell'Unione Commercianti. Non c'è incompatibilità, però il presidente di una Camera di Commercio arriva ed è espressione sempre in una categoria, però la regola, la logica e anche qua il buonsenso vuole che quando si fa il presidente si toglie, quando si casacca di appartenenza si fa il presidente di tutti. Appuntamento dunque a questa sera alle 21 su Televibertà con Nel Mirino. Grazie. 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 Grazie.